ben ritrovati questa video lezione è dedicata alla figura intellettuale e poetica di giuseppe barini nella prima slide ho indicato un illuminista moderato e ho indicato anche il giorno senza fine perché sono forse questi due gli aspetti più interessanti della figura di parini la solicezione moderata dell'illuminismo francese e dall'altra parte l'interesse nei confronti di un'opera il giorno credo abbiamo alla fine venne pubblicate due parti il mattino nel 1763 il medogiorno nel 1765 ma per tutto l'arco della sua vita che si estende dal 1729 fino al 1799 si dedicò alla sua opera che però rimase allo stato di manoscritto o parini anche un intellettuale lombardo un intellettuale che nasce sul lago di pusiano in brianza nel 1729 come detto in precedenza è un intellettuale che ha contatto con l'accademia dei trasformati con l'accademia dei pugni e con quelli intellettuali come i verri i beccaria che stavano cercando di svecchiare la cultura lombarda viene ammesso come ricordate all'accademia dei trasformati che era l'accademia più importante di milano oltre a quella dei pugni che era stata come vi ricordate fatta rinascere del 43 dal conte imbonati che ha fatto questa rinascere l'accademia un'accademia cinquecentessa dei trasformati e assumendo il ruolo di conservatore e ospitando le adunate non solo il suo ruolo è importante anche dal punto di vista politico infatti collabora con il governo austriaco nell'ambito dell'istruzione e vive la stagione riformista di milano con maria teresa d'austria che governa dal 40 all'80 e poi con il figlio giuseppe secondo impegnandosi appunto in diverse istituzioni culturali lavorando come insegnante di eloquenza e partecipando alla riforma scolastica è promosso dal governo austriaco le sopre principali sono sicuramente l'esordio poetico e alcune poesie di ripano e upilino che è nel 1752 poi abbiamo il mattino il mezzogiorno sono due poemetti del 63 il mattino il 65 il mezzogiorno poi abbiamo le odi alcune odi escono già negli anni 50 come la vita rustica e la sorobita dell'aria altri invece una fase successiva come ad esempio la famosa o della caduta poi abbiamo un dialogo molto interessante dialogo satirico che si intitola il dialogo sopra nobiltà che deve essere letto in maniera unita con i poemetti il mattino e mezzogiorno perché tratta all'incirca gli stessi temi e poi abbiamo due altre opere che sono le lezioni di belle lettere opere teoriche nella quale da una sorta di canone di quelli che devono essere gli scrittori da leggere per per saper bene scrivere o parignano illuminista illuminato abbiamo visto come nella milano del settecento si leggono gli illuministi francesi si leggono in traduzione ma si anche in francese al momento che la lingua della cultura del francese a quel tempo e gli autori principali erano come visto già jean jacques rousseau montesquieu ma anche voltaire la ricezione però di questi illuministi una ricezione che avviene in maniera per così dire mediata e anche per così dire moderata si può dire che condivide dell'illuminismo francese sicuramente il discorso egualitario sull'uguaglianza degli uomini che in quegli anni veniva formulato da jean jacques rousseau nelle sue opere infatti il filosofo ginevrino credeva che gli uomini fossero originariamente uguali e di conseguenza tutti gli uomini di fronte a dio e la natura non hanno alcuna differenza sociale queste acquisizioni vengono espresse nel sicuramente andiago sopra nobiltà da parte di parini ma dall'altra parte anche nel giorno con le favole mitologiche presenti nel giorno aderiva anche parini all'umanitarismo che è un'altra parola chiave dell'illuminismo francese l'umanitarismo implicava un forte impegno per riuscire a preservare l'integrità dell'uomo c'erano grandi sforzi solidarietà per correggere le più macroscopiche strutture sociali per alleggerire la miseria e ridare dignità al singolo tutti questi concetti sono molto forti e molto evidenti anche nel poemetto parignano che si intitola il mattino infatti nel finale c'è un episodio molto cruento che è la morte dei passanti a causa delle carrozze che sfrecciano ad altissima velocità nella milano del settecento non solo si fa riferimento in molti soprattutto nel mezzogiorno alla condizione di esterna povertà in cui versavano molte classi sociali milanesi la servitù viveva una condizione veramente miserrime e ciò si contrapponeva allo sfarzo della nominità milanese del secolo. Una società, quella milanese, caratterizzata da diverse disuguaglianze sociali che erano molto forti ed erano avvertite in maniera evidente dal poeta di Bosisio Parigni. Queste convinzioni sono diffuse non soltanto nella sua attività di letterato di giornalista ma anche nella sua attività di insegnante che come abbiamo visto lo vedeva coinvolto nell'opera di riforma scolastica del governo austriaco. non condivide neppure il radicalismo dei filosofi e soprattutto questo loro riformismo politico-culturale che era privo di mezze misure. Egli era infatti molto preoccupato da quelle che erano le convinzioni della rivoluzione francese. L'abolizione della nobiltà e soprattutto l'ascesa del potere della progresia non trovano Parigni d'accordo. Infatti Egli non voleva assolutamente la distruzione e l'annullamento della nobiltà. Anzi, questa era vista come la classe sociale doveva porsi a capo del movimento di riforma dello Stato austriaco. Non auspicava, anzitutto, la fine della nobiltà ma soltanto la nostra riforma. Non solo, era anche contro le aperture verso la cultura francese che in quegli anni venivano propugnate dal gruppo che si univa intorno al caffè. Egli infatti era contro l'influenza francese ed era comunque per una lingua italiana che seppur snellita rispetto a quello che era la tendenza del toscanesimo trecentesco e cinquecentesco mantenesse una sua integrità e un suo rispetto alle tradizioni italiane, che era una tradizione di buon gusto, di forma e di equilibrio. Il racconto l'ossidio a coupé, tanto per intenderci. Oh, della morale, del rapporto con l'inominismo, rifiutava sicuramente quello che era il libertinismo. Il libertinismo. C'è una polemica presente nel giorno contro Voltaire che viene definito il morbido Aristippo del secolo nostro. Aristippo era un filosofo infatti di Cirene che era sostenitore di teorie edonistiche che mettevano quindi in primo piano l'edoné, cioè il piacere. Non solo, respingeva anche l'ateismo che era tipico dell'illuminismo francese, anche se in realtà criticò l'ipocrisia e la devozione tutta esteriore alla quale si era un po' ridotta la religione cristiana. Condanna il fanatismo, condanna le guerre di religione e le condanna a rogo che erano ancora in vigore presso l'inquisizione spagnola. La sua era una religione vissuta intimamente, nell'animo, come crescita spirituale e anche come speranza di salvezza dei cristiani. Ho visto qualche rapporto con l'illuminismo. Passiamo un po' alla formazione di Parini e al contesto culturale e anche geografico in cui nasce Parini. Parini nasce nel 1729 a Bosisio, sul lago di Pusiano, in Brianza, da un piccolo commerciante di seta, Francesco Maria Parino. Il poeta però cambia subito la desidenza del cognome in Parini. Francesco Maria Parino era un modesto commerciante di seta che sposò in seconde nozze Angela Maria Carpani. Parini era l'ultimo dei dei figli e ha una formazione fondamentalmente tradizionale affidata ai paroci del paese. Fino a quando, nel 1741, un'anziana prozia vi lascia una piccola rendita fondiaria vincolata però al fatto che il nipote studiasse per diventare sacerdote e infatti Parini viene ordinato sacerdote nel 1754. Viene ammesso poi alle scuole Arcimboldee, dei padri di Barnamiti, a Milano e le frequenta fino al 1752, con risultati però non particolarmente brillanti. Per due motivi. Il primo, motivi di salute, un fastidio alle gambe, un'artrite che lo caratterizza per tutta la sua vita, tanto che negli ultimi anni dovrà girare con il bastone. Manca un po' per paranoia, per un'avversione nei confronti di quegli studi antiquati e pedanti, mnemonici, che imponevano questi padri di Barnamiti. Sono anni però in cui legge, e legge soprattutto i classici latini e italiani. La lettura fondamentale che fa in questi anni è quella di Orazio. La poetica e il suo mescolare illutile al dilettevole che caratterizzerà un po' tutta la poesia parigliana. Legge anche Virgilio, legge Petrarca e i petrarchisti cinquecenteschi. Sono delle letture che orientano il suo gusto e soprattutto lo orientano verso una poesia che da un lato si è caratterizzata da un certo rigore formale, un equilibrio formale, ma dall'altra abbia anche una sorta di profondità morale, abbia dei buoni propositi da veicolare attraverso i versi. Tanto che la prima raccolta, alcune poesie di Ripano Pilino del 1752, accoglie tutte queste letture della giovinezza. Anzitutto il titolo è abbastanza particolare perché contiene da una parte l'anagramma di Parino, in Ripano, e dall'altra un derivato dal nome latino Eupidi del lago di Pusiano, presso Bosisio. L'opera è interessante perché raccoglie dei sonetti amorosi, ma anche dei sonetti giocosi, che si basano un po' sulle rime di Francesco Berni. È un'opera abbastanza breve, si definisce solitamente una plaquette. che contiene 54 sonetti e altri 40 brevi componimenti. È un'opera che gli permette, erano successivo, nel 1953, l'ingresso nell'accademia dei trasformati. Un'accademia, come abbiamo visto, era una colonia dell'Arcadia, non riusciva comunque a mantenere una certa autonomia, e che si caratterizzava per temi tipicamente milanesi. In questa accademia, lo ricorda che in questa sede erano presenti dei poeti dialettali, tanzi, balestrieri, famosi per aver tradotto la gerusalemme librata in lingua milanese, ma anche passeroni. Un altro tratto caratteristico di questa accademia era un po' il contatto con la letteratura francese e inglese, che fa arrivare in maniera abbastanza tangenziale qualche contatto con l'autorità, con l'attualità del tempo. Nel 1954 viene nominato sacerdote e in quegli anni comincia a frequentare anche dei salotti milanesi. Ne frequenta due il salotto Cerbelloni e il salotto Imbunati. Il primo rapporto è con i conti Gabrieo e Vittoria Cerbelloni. Viene introdotto, viene introdotto in questa famiglia, può osservare da vicino la nobiltà milanese dell'epoca. Ci resta otto anni, fino al 1762. Quando è costretto a lasciare, anzi, decide di lasciare il suo impegno, il precettore in casa Cerbelloni aveva il compito di istruire il figlio per un episodio che era accaduto e aveva visto coinvolte da una parte la duchessa, Cerbelloni dall'altra, la figlia del musicista San Martini. Questa figlia era stata schiaffeggiata in pubblico dalla duchessa per un motivo abbastanza risibile e indignato Parini lascia la casa. Poi i rapporti si ricompongono, tanto che il poeta dedicò alla dama un'ode rimasta incompiuta, che si intitola, se volete saperlo, spesso dei malinconici sapienti. Fatto sa che questa lunga permanenza, in una famiglia così altolocata, così importante, mise il giovane sacerdote di umilia origina a contatto con una realtà molto diversa dalla sua. La raffinatezza degli ambienti, dei modi, delle conversazioni, gli fa vedere un po' quella che era la nobiltà milanese e anche un po' le note stridenti di questa casa sociale ormai in declino. E già da questi pochi accendi abbiamo un po' visto quali sono le differenze tra Parini e gli intellettuali che si erano radunati intorno alla rivista Il Caffè. Anzitutto per quanto riguarda l'interesse e l'ambito di studio. Da una parte abbiamo un interesse per gli studi economici, scientifici e ciò sarà tipico alla tradizione milanese, tanto che una rivista Il Politecnico sarà fortemente ispirata alla lezione dei verri di Beccaria. Dall'altra invece pari di un po' un intellettuale più tradizionale, si concentra sui studi letterari, sulla poesia e pensa che la poesia e la letteratura debbano avere la prevenenza rispetto agli studi scientifici. I verri Beccaria sono ricchi, sono ricondizionali, giatamente Parini è un povero sacerdote che per mantenersi deve anche arrotondare, vivendo in casa nobiliare, svolgendo la funzione del precettore dei figli e insomma la posizione di Parini è una posizione subalterna nei confronti della nobiltà. I verri Beccaria insieme a un'economia o comunque lavoravano in settori politico-economici dell'amministrazione statale austriaca, asburgica. L'altro invece si lavora ma comunque una classicissima lettera di cattedra di eloquenza e di belle lettere. I verri e Beccaria usano dei modi e dei generi tipicamente moderni, il saggio, il pamflet, l'articolo di giornale, per trasmettere, per veicolare quali che erano le loro idee. Dall'altra parte Parini invece pur condividendo le stesse idee, cioè l'allogio della ragione, la critica delle classi dirigenti, il fatto che gli uomini debbano essere uguali di fronte a Dio e alla natura, li esprima attraverso dei generi che sono più tradizionali. Il pomodio da scalico che deve quindi insegnare qualcosa, tipicamente il giorno, e dall'altra parte l'ode. Critica ad esempio l'inquinamento atmosferico e acustico milanese in un'ode, famosa, la leggeremo, la stradubietà dell'aria, quindi temi moderni in un genere che era antichissimo, l'ode, da sempre dedicata ai temi politici ma in generale civili. Oltre al giorno, abbiamo detto, si interessa ai temi sociali del tempo, come ad esempio l'inquinamento milanese, la castrazione dei cantanti d'opera, la guerra, e scrive anche un dialogo molto interessante, il dialogo sopra la nobiltà, che è del 1761. È un'opera che si può definire come una sorta di manifesto della poetica parignana, cioè dell'idea che Parini aveva della poesia. In questo discorso, nel 61, celebra lo spirito filosofico, che ristabilendo in buon senso la ragione, ha dissipato le molte tenebe del passato e ha recato nuovi lumi, lumi anche la poesia stessa. La poesia, secondo le lezioni di Orazio, è il dipingere, secondo questo breve discorso, le cose inversi, c'è un riferimento all'oraziana utpictura poesis, di modo che siano mossi gli affetti di chi legge o di chi ascolta. Ci sono due temi fondamentali in questo breve discorso. Da una parte, l'utilità della poesia. La poesia, dice Parini, è utile, come lo sono la religione, le leggi e la politica, perché muovendo in noi le passioni ci fa capire come il vizio debba essere allontanato e come si debba amare la virtù. Dall'altra, critica le distorsioni create dai metodi di insegnamento, che in particolare si ostinano a creare dei poeti nelle scuole. Secondo Parini, infatti, i poeti si nasce, non si diventa e il poeta ha un grande compito, quello di divulgare la virtù e di condannare il vizio. Interessante sono anche due polemiche letterarie. La prima, Conti il padre Bandiera, nella quale espone una sorta di suo ideale di letteratura e in generale di poesia e di prosa, facendo un paragone con i gioielli e i vestiti delle donne. Dice che la prosa, ma anche la poesia, deve essere chiara, semplice, evidente e soprattutto, come viene evidenzato in questo slide, senza affettazione. Deve essere, per così dire, chiara, modesta, come si vestirebbe una donna di umili origini e non deve essere eccessivamente ricca, sfarzosa, esibita, se andrebbe a essere paragonata da una meretricia, da una prostituta. La seconda polemica, invece, è quella con il padre Branda, forse un po' più interessante. Padre Branda era un religioso che in due dialoghi, intitolati dalla lingua toscana, aveva difeso all'oltranza il toscanesimo ed aveva espresso delle considerazioni molto pesanti sui poeti dialettari milanesi. Con cui, se vi ricordate, Parini era in contatto all'aumento che Tanzi, Balestiere e Passeroni frequentavano l'Accademia Trasformata, a cui era strammesso il Parini nel 1953. Da difesa del dialetto, passo un po' a una teoria sulla lingua. Ma interessante è quello che dice sul dialetto milanese. Il dialetto milanese non è una lingua di serie B, anzi può esprimere, come tutte le altre lingue, e anzi, forse di più, dei concetti alti, civili, può esprimere in maniera più evidente i sentimenti, essere più vicino al cuore delle persone rispetto alla lingua tradizionale. Quindi il dialetto, anzi, non è lingua di serie B, ma una lingua che può esprimere in maniera più evidente quelli che sono i sentimenti degli individui e dei poeti. Ricordiamoci che c'è una forte tradizione di letteratura dialettale a Milano. Maggi, ma anche Balesteri, poi Tessa, più avanti nel Novecento. Interessante, per invece il suo trasporto con la nobiltà, è il dialogo sopra la nobiltà, che è del 57. È un'opera abbastanza macabra che mette al centro due personaggi che sono un nobile, non identificato, e un poeta. Questi si trovano accanto in una tomba e in questa tomba il nobile vorrebbe continuare a dimostrare, a rivendicare quella che era la sua superiorità, ma il poeta, forse una figura di Palinira, demolisce l'arroganza e i farsi principi su cui esso si fonda. E la nobiltà, una volta spolata dalle virtù, della ricchezza, è nulla. Uno può essere anche nobile, ma se non ha la virtù e non ha nessun talento, è nulla. È un dialogo abbastanza interessante, anche se comunque sia dai toni eterogenei, con delle cadute di stile, una cornice macrava, l'utilizzo di termini bassi, realistici, e ci sono un po' anche dei salti logici nella sua costruzione. Ma è un'opera che mostra anche, come Palinira abbia letto, gli illuministi francesi, quindi Montesquieu, Voltaire, Russo, e che abbia assunto un po' quelli che sono i temi chiave del pensiero illuminista, quindi il concetto di nobiltà, il concetto di nobiltà, l'igualitarismo, l'utilità sociale. È interessante quello che dice alla fine il poeta, e lo leggo da questa slide, perché un po' ci illumina su quella che è la concezione di che Palinira della nobiltà. E dice il poeta, se io potessi risuscitare, prima di ogni altra cosa, desidererei essere un uomo da bene, cioè un uomo per bene. In secondo luogo di essere sano, puoi essere un uomo di ingegno, quindi di essere ricco, comunque la ricchezza è importante, per questo poeta, ma poi desidererei forse alla fine di essere un uomo nobile. Quindi sarebbe proprio l'ultimo dei miei desideri di nascere nobile, e piuttosto vuole nascere un uomo da bene, un uomo per bere, un uomo di ingegno nobile. La nobiltà, spugliata di questi suoi valori, è nulla, secondo il poeta, e di riflesso secondo Parini. Foto sta che il rapporto con la nobiltà è un po' un rapporto complesso, adesso viveva il fascino, sicuramente, tanto che frequenta dei salotti milanesi, i cervelloni, i limbonati, e lì, come ho detto prima, non aspicava la fine della nobiltà, ma voleva che questa nobiltà si ponesse a capo di un movimento di riforma dal basso, che potesse migliorare la condizione della Milano del Settecento. Era contrario ai privilegi dei nobili, sicuramente, ma dall'altra parte Parini non voleva neppure che si mettesse a capo del movimento di fornista, la borghesia aveva paura di questa nuova classe sociale, vedeva con preoccupazione quello che veniva dalla Francia, e l'eccesso per tutta la rivoluzione francese. Se, quindi, gli intellettuali al caffè volevano che la borghesia, il terzo stato, si mettesse a capo della riforma della società Milanesi del Settecento, lui, invece, voleva che questo ruolo venisse svolto da una nobiltà riformata che spogliasse i panni di altezzosità e di borosità e diventasse riformista. Nel 62 ottiene il nuovo impegno presso il conto Giuseppe Imbonati come percettore del figlio Carlo. È interessante perché questo giovane sarà il futuro compagno di Giulia Beccaria quando lascerà il conte Manzoni, e sarà il padre adottivo, insomma, sarà il compagno della madre, di Giulia Beccaria. Mantiene questo impegno fino al 68 quando, grazie alla notorietà che gli deriva dalla pubblicazione del mattino e del mezzogiorno, comincia ad essere coinvolto negli incarichi del governo austriaco, tanto che diventa poi ufficiale del Tato Regio, ministro per il potenziario di Carlo Firimian, e svolge il compito di redattore della Gazzetta di Milano che era un po' la cassa di risonanza del governo austriaco. Egli viene nominato pastore intendente alle scuole pubbliche e nel frattempo continua a scrivere, continua a scrivere soprattutto alle Odi, che verranno poi riunite da Gambarelli. Le seconde Odi sono la caduta dell'85, molto interessante perché in questa Odi rivendica un po' quello che è il valore dell'intellettuale, che non si fa condizionare dal rapporto con il potere, e la tempesta. Sono Odi però un po' più cupe rispetto a quelle che aveva scritto negli anni 50, la vita russica, la sorbità dell'aria. E questa raccolta viene pubblicata poi nel 95, nell'edizione curata da Gambarelli. Nel frattempo il nostro Parini proseguiva la stesura del Vespro e della Notte, che erano gli ultimi due tasselli di un progetto nuovo, che era quello del giorno. Durante il governo francese, e soprattutto dopo l'89, allo scopo della rivoluzione francese, si manifesta ancora di più il modellatismo di Parini, che ha molta paura della rivoluzione francese, la vede come la fine di un'epoca, temi possibili eccessi, e del resto erano confermati dai suoi sviluppi, dalla ghigliottina e dalla roba espiera, ricordiamoci che erano sacerdote, e quindi aveva paura che venissero intaccati anche i suoi privilegi da religioso. Fatto sta che quando nel 96 i francesi entrano a Milano, accettò inizialmente di far parte della Municipalità Repubblicana, diventando il membro di una commissione, che solo intendeva la finanza, le scuole, le teatre, insomma ancora all'ambito dell'educazione che l'aveva visto protagonista negli anni del governo austriaco. Fatto sta che dopo sua richiesta viene esonerato da questi incarichi, da un momento che negli ultimi anni il Parini era diventato quasi cieco, si era aggravata dall'artrite alle gambe, insomma non aveva sicuramente una salute brillante. brillante, muore fatto sta tre anni dopo, nel 99, nella sua casa di Brera. Tanto che verrà celebrata poi negli ultimi anni la sua azione meritoria, verrà ricordata da Foscolo, commesso di poesia, e nel 99, il 1999, che era 200 anni della morte di Parini, si faranno diverse manifestazioni, conveni per ricordare un po' il ruolo che ha avuto il nostro Parini per la letteratura milanese. Uno studioso che è Gianfranco Contini parla a proposito di funzione Parini nella letteratura italiana, la sua figura veramente di primo piano, la sua lezione verrà sicuramente assunta dagli autori successivi, Foscolo sicuramente, subito da Comanche, da Carlo Emilio Gad nel 900. Il capolavoro della sua opera è Il Giorno. Mentre si avvicinava all'Italia dell'Elluminismo, comincia a scrivere quest'opera, Il Giorno, un'opera fondamentale, che, come dice bene il titolo, un titolo non d'autore, racconta l'intera giornata di un tipico rappresentante dell'istoccazione milanese, Il Giovin Signore. Il progetto dell'opera è un progetto ripartito e l'opera si può definire benissimo come un opus in firi, un'opera in continuo divenire. L'opera inizialmente aveva una scansione di tre poemetti, il mattino, il mezzogiorno e la sera, che dovevano dedicare il loro contenuto alla descrizione del mattino, del mezzogiorno e della sera e dell'azione svolta in queste fasi della giornata da un nobile milanese, corrotto, Il Giovin Signore. Fatto sta che escono soltanto due di questi poemetti, Il Mattino, che solitamente chiamiamo Il Mattino 1, del 1963, e Il Mezzogiorno, del 1765. La sera, nonostante venga annunciata, non viene mai pubblicata. Le opere sono opere, le prime, il mattino e il mezzogiorno, in cui c'è una forte polemica nel confronto della nobiltà. La critica sociale è molto aspra. Il secondo progetto è un progetto che comincia a svilupparsi successivamente, doveva vedere la creazione di un poemetto, mai concluso, Il Giorno, diviso in quattro parti, Il Mattino, Il Meriggio, Il Vespro e La Notte. È dedicato al mesmo tema della nobiltà e concide un po' in certa misura con le prime due parti. Fatto sta che sono due opere diverse, Il Mattino 1 e Il Mattino 2, così come Il Mezzogiorno e Il Meriggio. Dunque si può dire che Il Giorno non esisterebbe e si tratti solo di un titolo dato dagli editori. a un progetto mai concluso, che rimane alla fine solo lo stadio di manoscritto. L'opera è un'opera in Indecassina Bisciolti, con un andamento quindi abbastanza disteso e ironico. Solitamente l'Indecassina Bosciolto è la traduzione, nella letteratura italiana, degli esametri caratteristici dei poemi epici classici della letteratura latina. L'Indecassina Bosciolto si caratterizza per versi, che non sono legati da rime e non sono neanche soggetti dalle partizioni strofiche di strofe. Sono tipiche dei poemi di Dascalici, ma anche delle satire. Le fonti sono fonti tanto latine, l'Eneide, la natura delle cose, di Lucrezio, tanto moderne. Ad esempio, la conversazione delle dame, di Rudovico Sergardi, che denuncia il cicibeismo, cioè il fatto che le dame avessero dei cicisbei, cioè degli individui che facevano una sorta di accompagnatori. E dall'altro, un'opera interessante, è The Rape of the Lock, di Alexander Poop, un poema eroe comico che descrive la sottrazione ad una carissa di una ciocca di capelli e le peripezie che derivavano da questo furto. L'opera, e il primo progetto del giorno, vede una dedicatoria alla moda, che viene poi soppressa nella seconda redazione. La voce narrante, secondo la voce narrante, che è il precettorno a birrito, tutto ormai è sotto il dominio della moda, che è futile, che è cangiante, perché è sola, può governare e può prendere sotto braccio questo libretto. Un libretto alla moda, che, come lei, verrà presto dimenticata. Notate come l'opera viene definita il poemetto, il libretto. È interessante, però, questa dedica a perdere i temi, perché comunque introduce quello che è il progetto iniziale tripartito di Parigny, cioè la creazione di tre singole opere, il mattino, il mezzogiorno e la sera. E leggiamo quindi questa dedicatoria alla moda, dove dice se a te ti piacerà di riguardare complaci d'occhio questo mattino, forse li succederanno il mezzogiorno e la sera e il loro autore, in maiuscolo, Parini, si studerà di comporli ed ornarli in modo che non men di questo abbiano ad esserti cari. Quindi il libretto è consegnato alla moda, a questa divinità cangiante, frivola, non è un'opera seria, seriosa, ma un'opera cangiante, da leggere quasi sulla toletta, come facevano i nobili del tempo. Il mattino, si apre quindi quella dedicatoria alla moda, è meglio aggiungere il mattino 1. e poi segue la presentazione dei due personaggi principali, che è il narratore, che si presenta nei paneli del precetturno a Birrito, che deve educare al piacere il giovin signore, che è destinatario dei suoi insegnamenti. È un personaggio flat, che non parla mai, rappresentato come un uomo dedito all'ozio ed è strano da un impegno che può essere tanto militare o della guerra o delle armi, tanto accademico. Il giovin signore si sveglia ormai a mezzogiorno dal momento che ha passato la notte, come leggeremo, giocando a gioco d'azzardo e passando la serata nei teatri. L'opera, è un'opera molto frivore dal punto di essere contenuto, ma che contiene soprattutto le digressioni che sono forse la parte più interessante del suo contenuto. Tra le digressioni la favola di Amore e Imene, che spiega l'origine dei Cicisbei, e la favola del piacere e della cipria. Interessante la cipria che riguarda la nascita del costume di incipriarsi i capelli da parte dei nobili del tempo. Ci sono quindi degli inserti di andamento mitologico che vogliono elevare un po' il dettato, che spesso è un po' frivolo, sovrabbondante, noioso. il mattino racconta un po' le preoccupazioni del giovine signore, quello di ricevere la colazione e compiere una difficile scelta tra i bere cioccolata e caffè. Si alza poi dal letto e le sue preoccupazioni vanno verso la dama di cui egli non è il marito ma è il Cicisbeo, cioè l'amante ufficiale, l'accompagnatore. si veste per uscire e poi si reca in carrozza dove la dama lo aspetta per il pranzo. Pranzo che occuperà e che sarà il contenuto fondamentale del mezzogiorno che è la seconda parte del progetto iniziale di Parini. Il mezzogiorno è interessante perché contiene il famoso episodio della veagina e cuccia. L'episodio che narra, la faccio molto breve, l'ha cacciata da una famiglia di servitori perché il padre di questa famiglia aveva dato un piccolo calcio alla canietta definita vergine cuccia della dama e la punizione per il suo gesto definito come il sacritico è il licenziamento. Fatto sta che i primetti non conclusi sono rimasti allo stato manoscritto il vespro nella quale si racconta la visita a una giovane donna una giovane nobile che va partorito da pochi primogenito e poi la notte in cui si descrive fondamentalmente la parte degli imbecilli cioè dei nobili che sono impiati in stravagantitività e soprattutto si descrive un po' quella che è la notte del giovine signore e della nobiltà milanese del tempo. Fatto sta che Parini non conclude mai il giorno e lo fa per un motivo molto evidente che descrive una lettera che invia l'editore dice infatti che non lo scrive per non insevire in mortum cioè per non inferire su un calavere l'unibiltà aveva avuto già una grande mazzata una grande colpa che era stata la rivoluzione francese che aveva un po' per così dire intaccato quali che erano i suoi privilegi non solo il governo austriaco con Cauniz aveva fortemente ridotto quali che erano i privilegi della nobiltà milanese quindi sarebbe stato come scagliarsi con un cadavere continuare a descrivere in maniera ironica e satirica la nobiltà milanese niente era più spiacevole più disdicevole che scagliarsi contro una casa sociale che aveva già avuto un po' la sua condanna dalla storia fatto sa che il giorno si legge per lo stile uno stile sovrabbondante per uno stile per così dire solenne che si contrappone ad un contenuto veramente esile le vacue le vuote occupazione della giornata di un giovine signore mi ha visto per concludere quindi Parini in questa video lezione e poniamoci la solita domanda perché Parini è un classico sicuramente per tre motivi il primo motivo è perché ha saputo un po' rinnovare la poesia non legandola soltanto all'equilibrio formale ma innestando in questa poesia dei contenuti legati al vero ed estruendo come gli antichi poeti una funzione sociale perché ha recuperato la lezione novidiana unendo il bello e il vero due termini che alla riflessione degli umanisti faticavano ad andare a braccetto solitamente il vero non poteva essere bello dal punto di vista formale e poi forse il primo importante è perché ha offerto un esempio di coerenza ha ispirato tutta la sua vita una vita abbastanza difficile per le difficoltà economiche ad una ad una coerenza morale ispirando la sua vita agli stessi valori i valori di onestà e di denuncia di quelli che erano un po' le strutture della società contemporanea la sua lezione verrà presa da Foscolo che ne farà un personaggio delle ultime lettere di Jacopo Orris il capolavoro della prosa foscoliana un romanzo fondamentale per la letteratura italiana del romanticismo spero di essere stato chiaro e arrivederci alla prossima video lezione grazie a tutti